Praticamente è già stato detto quasi tutto, come Chioggia protagonista siamo contenti che il fronte civico anche sia l'artico, questo fa dimostrare che vogliamo proprio concentrarci sui problemi della città e più forze civiche sono in campo meglio è, sia per la politica che per tutta l'amministrazione, quindi non ci resta che concentrarci sul lavoro da fare, essere veramente sereni nell'affrontare tante situazioni molto difficili, parlo anche con condizioni di caos che quando viene l'assessorato, che in un'amministrazione deve essere serena per affrontare queste situazioni che veramente stanno mettendo in difficoltà la nostra città. Quindi posso dire che il buon lavoro ai colleghi, agli assessori, con piacere vedo Riccardo che vuole, penso che sia più giovane, quindi è anche un bel segnale della città e come è anche un buon lavoro e con una consiglia che entreranno, uno sicuramente più esperto, uno giovane, quindi c'è un bellissimo insomma. Comunque il messaggio principale che dovremmo dare, come chi ho già portato a un vista, è quello di concentrarci sulle cose da fare, guardare avanti, ormai ciò che è stato è stato, ma concentriamoci sulle cose da fare. Grazie.